Quali sono gli aspetti fiscali principali di cui bisogna preoccuparsi? La residenza fiscale sappiamo tutti che è basilare perché se il lavoratore distaccato all'estero mantiene un centro di interessi vitali, mantiene dei forti legami con l'Italia, non perde la residenza fiscale. Quindi la residenza fiscale comporta poi la tassazione in Italia, la tassazione all'estero, l'eliminazione della doppia imposizione. L'altro elemento di attenzione, oltre alla residenza fiscale, in materia proprio di fiscalità estera è quello secondo me di evitare il fai da te. Quello che scade spesso è che il lavoratore va all'estero, ha un trattamento sull'ordo e quindi nel paese estero tenderà a non pagare imposto. Comunque tenderà a gestire la sua fiscalità senza avere in chiaro quali sono gli adempimenti nello Stato estero. Il suggerimento è proprio quello di cercare in qualche modo di negoziare dei pacchetti basati sul reddito, sul netto. Quali sono gli aspetti previdenziali principali di cui preoccuparsi? L'Italia ha un vasto network di accordi di sicurezza sociale, i quali permettono normalmente di proseguire la propria anzianità contributiva anche durante il periodo di lavoro all'estero. Ad esempio nei paesi europei c'è un regolamento che permette entro determinati limiti temporali di mantenere la contribuzione in Italia come se si stesse continuando a lavorare in Italia. Ma anche qualora si dovessero versare i contributi in un paese convenzionato, in un paese comunitario, esiste un principio di totalizzazione. Il terzo caso invece è quello dell'attività di lavoro in paesi extracomunitari che non hanno un accordo di sicurezza sociale. Qua subentra una tutela che è prevista per legge italiana e che prevede comunque l'obbligo per il datore di lavoro italiano di continuare a versare i contributi in Italia. Grazie a tutti.